Allora zia Pina oggi cosa facciamo di bello? Un bel ragù. Un bel ragù? Sì, sì. Perché ci sono ospiti? Sì, oggi arriveranno degli ospiti. E qui? Che profumaccio! Quindi adesso cosa facciamo? Le pancette. Oh, che languorino! Allora, un bel ragù. 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 Come formate il cosimo di si Ah, il sorvigia oggi cuciniamo all'aperto cuciniamo al sole come i rifigi? perché nel soggetto sono che profumo veramente e se si potrebbero sentire i profumi profumi assaggiamo che goduria che goduria e adesso cosa stai preparando? io li chiamo crescentini però sono il gnocco fritto anche giustamente per non farcelo mancare il gnocchetto va bene adesso prepariamo l'impasto e adesso cosa facciamo? un altro impasto i maccarroni a ferretto grazie 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 maccarroni a ferretto con un filo di spaghetti sono belli anche da vedere sono belli anche da vedere sono anche belli da vedere grazie giusto? o non è giusto? anzi un po' di bacione oh che cuoca che cuoca grazie 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 con un gnocchetto fritto grazie 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 c'è una cosa grazie gli occhi avete un po' di vento ufff ecco qua i gnocchetti fritti gnocchetti fritti ah è arrivato l'avvocato Falvo oggi abbiamo l'avvocato Falvo l'avvocato Man ma e' la moglie pure benerich e' tutte in un colpo solo benerich benerich Zia Pina come sono questi maccheroni come sono ora affascino e benedica guardate che abbiamo oggi chi abbiamo oggi con noi youtubers se si potrebbero sentire i profumi i profumi giovani giovani ok che silenzio che silenzio che silenzio